La onda del Virtus Matera si presenta al proprio pubblico in vista della stagione 2024-2025 che la vedrà impegnata in qualità di matricola nel campionato di Serie B interregionale di basket maschile. La società materana negli ultimi tre anni ha inanellato tre promozioni consecutive, segno di un team in salute e ambizioso. Era un progetto importante a tre anni di fare tre salti di categoria, con un po' di fortuna che non fa mai male, ci siamo riusciti, con il ripescaggio dell'ultima stagione, dove abbiamo concluso la stagione con un secondo posto netto contro il Canosa all'ultima partita, abbiamo avuto un po' la fortuna, anche il merito, di essere ripescati per fare questa bella Serie B che abbiamo sempre voluto e che aspettavamo ormai da tempo. Una squadra quasi completamente rinnovata, riconfermando basi come l'attuale capitano, il materano Francesco De Mola, il pivot Benas Bactonavicius e Marco Spada. Molte delle nuove risorse provengono dalla Serie B, tra gli ultimi arrivi Stefano Rubinetti, Francesco Dagnano, Matteo Airaghi, Giorgio Manna. La Virtus nasce come settore giovanile, è presente in conferenza stampa molti Under-15, Under-17, Under-19 ed è su questo che si continua a puntare. La squadra è molto giovane, 23 anni, l'età media, abbiamo solo Bagdanavicius che è sopra i 30, abbiamo costruito poi una bella squadra Under-19 che farà il campionato nazionale, per due motivi, uno perché vogliamo dare uno sbocco a quello che è un nostro settore giovanile importante, due perché comunque un livello alto delle giovanili porta all'apporto di giovani che comunque riescono a competere anche a livello senior. Tra le difficoltà della Serie B interregionale sicuramente le lunghe trasferte che spesso capiteranno visto che il girone comprende Sicilia, Calabria e Campania, così il neocoach Francesco Mollica Lucano di Rione Revolture con lunga esperienza nel settore giovanile. Secondo me preparrà l'equilibrio e il fattore campo, dovremo essere bravi nel fare capolino di tutte le giornate casalinghe e riuscire a vincere in trasferta in questo tipo di girone fa tanto tanto la differenza. Un pensiero sempre all'indimenticato Mattia Stano, domenica una memorial. Domenica giocheremo con la Viola Reggio Calabria che è un avversario importante, ci tenevamo a onorare la memoria di Mattia con una sfida di cartello e quindi lo faremo. Intanto grandi le ambizioni anche per la prossima stagione. Punta ai playoff o vincere il campionato? Io penso sempre di dover vincere il campionato perché quella città se lo merita, ci è dato tanto e dobbiamo restituire tanto a questa città, quindi noi pensiamo di vincere il campionato.